E' stato trasferito dal carcere di opera quello di San Vittore, l'ex capo ultrà dell'Inter Andrea Beretta, accusato dell'omicidio di Antonio Bellocco a Cernusco sul Naviglio, il 49enne che attualmente si trova in isolamento. Sarebbe stato trasferito per timore di ritorsioni da parte della famiglia di Bellocco, fra le maggiori esponenti dell'Andrangheta di Gioia Tauro. Secondo quanto appreso, lo stesso Beretta avrebbe chiesto delle tutele ai magistrati titolari del caso, raccontando che qualche giorno prima dell'omicidio era stato informato che qualcuno avrebbe tentato presto di ucciderlo. L'omicidio di Bellocco ha scosso non soltanto famiglia e amici, ma anche i membri della tifoseria interista. Come già più volte ripetuto ha scritto la Curva Nord in una nota, abbiamo imboccato la strada della trasparenza e dei valori come faro da seguire per ritrovare quell'armonia messa nuovamente a repentaglio da eventi che coi frequentatori della Curva non hanno nulla a che vedere. Quest'ennesima ripartenza, sebbene possa apparire in dolore, impone invece, ammettono gli ultra, sacrifici enormi a chi si è assunto la responsabilità di garantire un futuro alla Nord e garantire proprio quella continuità nel proporre la qualità di tifo degli ultimi tempi. I guai con la giustizia di Beretta, del resto, sono iniziati tempo fa. Di recente è stato prosciolto in un caso di presunta estorsione, mentre a giugno era stato condannato per il pestaggio di un venditore ambulante a San Siro.